Parliamo di un tema molto importante che in realtà non abbiamo mai affrontato all'interno del Bosco di Ogigia e quindi ho il piacere di ospitare Alessandro Pozzi del Portale del Verde con bellissimo canale YouTube pienissimo di contenuti e con lui stasera parliamo di talee, impariamo a moltiplicare le piante, un tema molto importante, lo si può fare in tanti modi di propagare le piante ma la talea è un bel sistema che andiamo a scoprire stasera grazie ad Alessandro che lo sta mettendo in pratica ormai da molto tempo e si sta specializzando su queste tecniche. Funziona tutto? Filippo ti chiedo ancora confermo, ho avuto un attimo... Speriamo in calma, facciamo entrare un po' di gente, siamo su una trentina adesso. Ok, allora sì, vabbè allora, mentre aspettiamo che arrivano altre persone noi però ci rifacciamo un po' di ripasso di botanica perché appunto le talee ci ricordano questa caratteristica meravigliosa delle piante che non tutte le piante, che non tutti gli esseri viventi, a noi animali possiamo invidiare questa capacità delle piante di riprodursi da una piccola parte di loro, insomma, cos'è una talea Alessandro? Ma allora innanzitutto grazie per l'invito e mi fa piacere che si parli per la prima volta di taleaggio nel tuo canale, anche perché reputo il taleaggio una, diciamo così, anche una forma di avvicinamento al giardinaggio, perché io ti dico quello che è successo a me, bene o male, nella mia vita. Io ho fatto i primi trent'anni della mia vita dove non sapevo neanche distinguere un'erbaccia da un fiore. Vedevo l'erbaccia e chiedevo magari a mia mamma, dicevo, ma questa va strappata. Ecco, questo era il mio livello di fino a trent'anni, quindi penso che c'è tempo proprio per farla nascere questa passione, c'è tempo per tutto nella vita, basta volerlo, e penso proprio che il mettersi a fare le talee sia una delle forme proprio che avvicina, che velocizza di più la crescita della passione, perché si riesce proprio con le proprie mani a dare vita, è una vera e propria vita che riesce a dare a questa pianta. Io ogni tanto mi scopro frettoloso in tante cose, tipo il supermercato, c'è un giorno che io vado al supermercato, mi vedono entrare e uscire. Io di solito ci metto più o meno sui 16 minuti, se ce ne metto 18 vado già in ansia e lo faccio una volta alla settimana. Ci sono poi delle volte che mi scopro tremendamente lento e tante volte, è come se avesse una telecamera puntata su di me, mi scopro lì a guardare le mie bambine, chiamiamole così, le bimbe, come le chiamano gli amanti delle orchidee, le chiamano le bimbe. E certe volte sto lì a guardarla, a vedere se c'è una piccola fogliolina, guarda ti faccio vedere subito una cosa. Quindi ti aiutano diciamo a rallentare il tempo, a prenderti il tempo, ti hanno insegnato questo. Già sono lento, ti dico solo che io l'altra mia attività, io sono appena tornato due ore fa, ero supermunti, ho fatto sette ore di camminata, oggi tra l'altro in un posto splendido, la giornata era magnifica, io sono sempre nei boschi, visto che tu dici il bosco di Ogigio, io oggi ho fatto la giornata completamente in boschi di faccia. Ah che meraviglia. E quando sono tornato a casa ho guardato appunto le mie bimbe, le ho preparate qualcuna per farti vedere qualcosa e non so se si riesce a... Dai facci vedere le tue bimbe, aspetta un po' più al centro, eccola. Allora, aspetta. La vediamo meglio se la metti più al centro, ok, ok. Oh ecco così la vediamo meglio. Allora, tanto per darti un'idea, questa tra l'altro non è neanche una talea ufficiale, cioè diciamo che è una talea da foglia, non da rametto. Questa che vedi alta, questa qua, questa è una zamio culcas, la zamio culcas è la pianta di padre Pio per intenderci, è una pianta molto amata ed è una pianta di quelle veramente da pollici neri, cioè questa sopravvive a tutti e c'è la possibilità di moltiplicarla, cioè scusa, propagarla, perché moltiplicarla... Propagarla, sì, la termine giusto. Tirano le orecchie i vivaisti, propagarla attraverso la foglia, quindi si prende proprio la foglia, la si stacca l'apice dove è attaccata il rametto e la si mette proprio nel terreno. Tra l'altro questo terreno non è neanche un substrato classico, è una fibra di cocco, anche qui mi sono un po' così nel tempo dilettato anche nel variare i substrati, proprio perché girando tanto nei vivaisti ho visto varie tecniche che oggi, se vuoi, condividiamo e vi dico un po' la mia esperienza. E dicevo per ultimo, come vedi qui nel vasetto, c'è una bimba che sta nascendo, guardala qua, la vedi dove metto il dito? E questa è una novità dell'ultima settimana e logicamente mi prende il tempo perché io quando vedo una cosa del genere gli do tutto il tempo del mondo, ok? Una bella nebulizzata, una bella coccolata, un po' di amore e la nostra pianta cresce. Senti Alessandro, ma tutte queste piante che hai creato stanno nel tuo giardino, in casa tua o le distribuisci anche? Perché ormai ne hai fatte... Allora, diciamo che ci sono delle piante che amo particolarmente, come possono essere le calle. Io da 25 anni che coltivo calle, quindi le calle ho fatto un laghetto e quindi ho riempito tutto il laghetto e poi ho dato via, penso ormai nel tempo, in questi vent'anni, centinaia di vasi. E le altre le piazzo, le piazzo in giro, in casa, guarda ti faccio vedere un po' sopra cosa c'è, se si riesce a vedere... Ah, ecco qua, ok. Non hai lasciato nessuno spazio libero. Ecco, è un po' limitante il computer, però ti posso dire che a destra, sinistra, sopra, sotto, in bagno, io ho delle piante, anche in camera. Cioè, ho iniziato proprio a circondarmi, ti dico, fino ai 30 anni non sapevo neanche cos'era una pianta. Adesso sono in una fase della vita dove la pianta mi dà e tutto ciò che mi dà io gli dedico tempo. Penso che sia una cosa abbastanza normale. Senti, ma che sensazione dà vivere circondati da così tante piante? Cioè, in qualche modo senti un'energia speciale dalle tue bibbe? Ti dico, allora, mio figlio a certe volte mi dice, papà, basta, perché effettivamente io ho messo anche delle foto su Facebook, utilizzo tanto anche Facebook per fare un po' una sorta di sondaggio, e ogni tanto metto delle foto qui del mio studiolo e dico, non è che ho esagerato, diciamo che il 90% dice no, va benissimo. C'è qualcuno che effettivamente dice, vabbè, adesso basta, perché sono anche troppe. A me personalmente danno entusiasmo. Io reputo l'ingrediente principale della vita, se si potesse acquistare a quintali, in farmacia, da qualche parte, per me è l'entusiasmo. Io non rinuncerei mai, fa parte della mia vita. E quindi se venisse a mancare quello, molto ovviamente io da lì a poco me ne andrei da questo mondo. Quindi sono alla ricerca sempre di cose che mi danno entusiasmo. E le piante, per quanto sono esseri fermi, viventi ma fermi, ho imparato dai vivaisti, girando, e ho fatto tre anni, per mettere sui primi mille video che ci sono nel mio canale YouTube, ho girato in lungo e in largo la nostra penisola. Qui per dire che stiamo vedendo questo video, sono dal più grande vivaista di piante aromatiche e peperoncini. Gramaglia ha una collezione di 800 peperoncini piccanti, pensate, e scusate, peperoni piccanti, peperoncino è un modo errato di chiamarlo. E qui siamo a Torino, per dire, e sono andato tre volte da lui per girare i video. E qui sta facendo vedere come si fa appunto una talea di una pianta aromatica. È logico che girando la nostra bella Italia si impara, si respira, e soprattutto si impara dai vivaisti quelli che sono i segreti. Ecco, qui siamo invece a Chieti, qui siamo a Chieti da Oasi Piante, questo è... Infatti la cosa bella del tuo canale è che hai raccolto tantissimi pareri diversi, tantissime testimonianze, cioè oltre alle tue esperienze, quindi alla tua grande passione, hai raccontato quella degli esperti italiani, insomma, in materie. Diciamo che ho fatto una cosa, secondo me, anche abbastanza logica. Quando ho creato il canale, sono partito da zero sulla base dell'altro mio canale che ho, che è ZZ Fai Da Te, e che è un canale che però non c'entra niente con il giardinaggio, e sul giardinaggio non sapevo proprio dove andare a parare, perché sì, sapevo qualcosa, ma non puoi aprire un canale perché sai qualcosa. YouTube, soprattutto oggi, per fortuna io dico, è molto selettivo, perché se no sarebbe una giungla. Ognuno apre un canale, dice la sua, ed è un gran casino. Quindi fa selezione. Io ho voluto proprio non fare... L'ho girato al contrario, ho detto, intanto vado dalle persone che vengono riconosciute, perché guarda che all'interno del mio canale, non lo dico perché mi piace dirlo, ma perché è la realtà, ci sono le eccellenze del vivaismo italiano. Quindi io ho il numero uno dei vivaisti di piante aromatico, o di peperoni piccanti, perché Gramaglia è il numero uno. Pozzi Giancarlo è il numero uno delle orchidee. Zacchera è il numero uno delle piante acidofile. Non lo dico io, lo dice il mercato. Allora, guarda, per tutto questo rimaniamo al tuo canale, Portale del Verde, per approfondire. Stasera vogliamo spiegare al pubblico del Bosco di Ogigia cos'è una talea e soprattutto dare gli elementi base per iniziare a fare le proprie talee, anche a chi, insomma, non ha mai provato questo sistema di propagazione. Tra l'altro voglio ricordare che siamo in diretta e quindi rispondiamo alle vostre domande, come facciamo sempre. Stanno già iniziando ad arrivare, Alessandro, le domande. Quindi adesso parliamo un po', perché vorrei fare prima un'introduzione, insomma, su questa materia e poi cominciamo anche a raccogliere le domande. Le talee, appunto, sono un sistema di propagazione delle piante che si fa partendo da una piccola parte delle piante. Te ci hai detto anche che si può fare anche da una foglia, so che si può fare anche da una parte di radice, però in genere si fa da un rametto, giusto Alessandro? Allora, diciamo che cominciamo a dare qualche notizia, qualche nozione proprio sulla talea. Ti dico, ripeto, quello che ho imparato in questi tre anni. Io non sono un agronomo, ho la licenza media, quindi non voglio vestirmi di panni che non sono miei. Però tutti convergono verso alcune cose. Poi ci sono delle differenze, ti dirò, perché alcuni dicono delle cose e altri ne dico delle altre. Io ve le dirò tutti e due. Allora, la talea, il taleaggio, è uno dei sistemi di propagazione, diciamo tra i più conosciuti. C'è il seme, che è sicuramente il più difficile di tutti. Poi c'è la propaggine, che è una cosa che mi piace ogni tanto provare, ma ti devo essere sincero, pochissime volte mi è venuta, molto ovviamente perché non gli dedico abbastanza attenzione. Io l'ho fatta con la vite. Ed è venuta? Sì, sì, ha funzionato. Non è difficile, però ripeto, sicuramente non mi piace molto a me. La propaggine, poi c'è la divisione del cespo, come si fa per dire, che non so, con le calle, che si va a dividere, e poi c'è appunto la talea. Allora, la talea, a differenza del seme, che non ci dà la garanzia di cosa uscirà, perché quando noi andiamo a prendere un seme, che ne so, di una cameglia, noi avremo una pianta di cameglia che è un ibrido, non è figlio identico della madre dove noi abbiamo raccolto il seme. Questo va detto subito. La talea permette di clonare perfettamente la pianta. Questa è la prima cosa che andiamo a specificare, perché uno dice, vabbè, ma io posso farlo anche insieme. Devi sapere che ti esce un qualcosa che è molto simile, ma non è lui, ok? E soprattutto su piante come le cameglie o le rose, cioè vengono fuori delle cose. Per delle piante, diciamo, già selezionate, che hanno dei colori particolari, delle caratteristiche particolari, è molto importante avere un metodo, tra virgolette, facile per riavere lo stesso risultato, insomma, la stessa pianta, le stesse caratteristiche esatte. Perfetto. Poi, cosa possiamo dire sulle talee? Allora, innanzitutto, ci sono due modi per farli. Si divide proprio i macromodi, sono due. Uno in terra, l'altro in acqua. Faccio un esempio, il classico esempio, qui ho tenuto il classico esempio che un po' tutti li abbiamo in casa, il potos. Avete visto che alle spalle ho un potos gigantesco, ogni tanto va potato, perché se no mi va a toccare terra. E ci fai subito una nuova piantina. Certo, perché adesso non so se si riesce a vedere, guardate, è pieno di radici. Si vedono, si vedono. Vedete le radici? Ecco, questo è proprio l'ABC. Lo potete fare, ecco, con l'acqua viene bene il potos, ma molto bene viene anche la monstera. La monstera ce l'ho qui di fianco. E questa, questa è la monkey. Io l'adoro questa pianta, mi piace molto. E guarda, qui ha già messo, queste qui sono già nuove foglie. La talea, è bello perché già la talea, prima di diventare pianta, emette già delle foglie. Attenzione, c'è proprio la talea, poi diventa una piantina, poi diventa una pianta. E oggi ci tengo proprio a specificare questo passaggio, perché è lì che ci si perde, Francesca. Non è tanto in questa operazione. Questa è un'operazione che possiamo fare, ecco, un consiglio che do, facciamola insieme ai nostri figli. Quindi, tanto per dare un'idea, ecco, qui si vede proprio la radice che è uscita di tutta questa talea. La vedete dove c'è il mio dico? Sì, sì, la vediamo. Io la vedo bene. Perfetto. È come una grande unghia. Ecco, dobbiamo considerare che tutta questa pianta che noi vediamo perfettamente in forma, perché ti dico, mette anche delle nuove. Guarda, questa, la vedi questa piccolina? Questa è roba di questa settimana, perché io le tengo d'occhio tutte. E ti dico, tutto questo movimento, la pianta l'ha creato attraverso quell'unghia che abbiamo visto prima. E qui ci torneremo dopo. Questo non è un piccolo particolare, è una cosa molto importante, ok? Ok. Quindi, dicevo, possiamo farle in terra, possiamo farle in acqua e possiamo farle anche in substrati, diciamo così, nuovi, tra virgolette. Esistono da una vita, ma pochi li conoscono. Eccolo qui. Questa è la classica talea che si può fare nel bicchiere della birra che troviamo nelle feste per intenderci. Un bicchiere riciclato. Un bicchiere riciclato e dentro, come vedi, non vi è terra, ma vi è agriperlite. Questa è agriperlite. Solo con la perlite, non si mette nient'altro. Se io, adesso non posso farlo perché andrei a sporcare tutto, ma se vado a togliere tutta questa agriperlite, qui all'interno del vasetto è una miriade di... Di radici. Ma poi puoi utilizzare anche l'agriperlite per altre piante? Allora, diciamo che sì, lo si può fare, però siamo onesti. Con un sacco di agriperlite da 5 litri vai avanti, penso, 7 anni. Quindi, è una cosa che alla fine non si fa, ok? Perché comunque, anche lei ha delle proprietà che nel tempo va a perdere. L'agriperlite io l'ho imparato nei vivaisti pistoiesi che sono i migliori al mondo, non in Italia, al mondo. Abbiamo il polo vivaistico più grande del mondo che è Pistoia. Qualcosa come 500 vivaisti in una città che è piccolissima. Adesso non so, tu che città sei? Io so in provincia di Siena, comunque conosco bene i vivai di Pistoia. Sì, sì, non lo so. Non lo so, in tutto il mondo vengono a prendersi le piante di Pistoia. Però è una piccola città. Sì, sì. Non stiamo parlando di Tirensi. E sono tutti, quasi tutti i vivaisti. Ecco, lì ho imparato l'utilizzo della perlite. L'ho imparato proprio, soprattutto per le, si addice molto per le tallee delle gardenie. Le gardenie con la perlite vengono benissimo, anche le magnolie. Quindi ci sono proprio delle piante con cui noi possiamo utilizzare di più altri su strati rispetto ad altri. Ok? Quindi agri perlite. Quella che ti ho fatto vedere prima, che è questa qua, adesso qui non si riesce a vedere la differenza, però se fosse asciutto lo vedresti colore proprio abbastanza marroncino, biondo. È fibra di cocco. È fibra di cocco. Quindi non è, sembrava scura, mi sembrava un terriccio normale. C'è anche poca luce. È fibra di cocco e abbastanza bagnata adesso. È fibra di cocco, io la utilizzo, la si compra in comodi mattoncini, sono proprio dei mattoni che li si mette a bagno, poi si gonfia tutto e quella si usa per alleggerire, per comporre i substrati o addirittura proprio per fare le tallee nella fibra di cocco. Tutti questi metodi sono stati sviluppati per avere maggiori possibilità di successo. Comunque, se noi siamo appena agli inizi diciamo dell'esperienza, non vogliamo andare ancora a comprare un sacco di materiale apposito, lo possiamo fare anche con il terriccio, diciamo, terra e terriccio. Allora, allora, ti direi di sì, Francesca, però penso sempre ai morti che si fanno nel senso buono. Cioè, dico, quando parliamo di appassionati, me ne vedo lì mille che vogliono provare, no? E penso anche che ai primi successi 500 vanno via subito. Quindi dico, se riesco a dargli qualche buon consiglio, perché più siamo... Non si perdono per strada. Senti, comunque ci chiedono, Tommaso ci chiede, perché usi l'agriperlite esattamente? Per favorire il radicamento o perché ci sono dei nutrienti più adatti per quel tipo di pianta? Allora, è presto detto, l'agriperlite ha una proprietà, la proprietà dell'agriperlite come lo sfagno e come la zeolite anche, trattiene l'umidità, però permette all'acqua di drenare. Quindi, quando voi andate da qualsiasi vivaista e vedete il terriccio con cui ha riempito i vasetti, vedrete che ci sono dentro questi pallini bianchi che tanti pensano che è concime non è concime se fosse concime brucia la pianta se ci fosse tutto quel concime c'è qualche pallina di concime per l'amor di Dio ma ha una pianta piccola asidosa perché se no brucia quelle cose che vedete bianche è perlite perché viene messa viene messa perché la terra e qui vengo a quello che stavi dicendo tu se io prendo un rametto e lo metto nella terra nuda del giardino la classica terra che noi abbiamo se abbiamo la sfortuna di avere una terra abbastanza argillosa compatta che trattiene anche molto l'acqua è difficile fare le tale o meglio un'ortensia ti prende perché qui c'è proprio poi da fare una classifica delle piante più facili le piante piacione allora guarda ti dico una che ha funzionato al bosco di oggi è il rosmarino rosmarino però voglio dire se noi proviamo per dire con una cameglia che è molto più difficile dobbiamo se vogliamo avere più possibilità di attecchimento usiamo qualche stratagemma quindi consiglio un terriccio diciamo così soffice morbido e visto che tu sei maestro in questo utilizziamo il risultato del nostro compostaggio quale miglior substrato di quello non ce n'è perché se no è in salita la partita partiamo già con un 3 a 0 per gli altri perché dobbiamo andare a complicarci la vita quindi tornando all'agriperlite l'agriperlite serve per alleggerire il terreno per arieggiare il terreno perché all'interno l'acqua deve sempre poter drenare questa è la cosa più importante che ormai dico in tutti i video tutti sono preoccupati del perché muoiono le piante e gli afidi e la cocciniglia eccetera ma il problema numero uno è il ristagno idrico questo l'ho imparato dai vivaisti togliete i sottovasi buttateli via cioè proprio loro non utilizzate le sezioni nel senso se c'hai logico c'hai il balcone vieni in città è una forzatura quella che ho fatto hai bisogno del sottovaso ma svuotalo non puoi lasciargli dentro l'acqua perché se no butti via la pianta la pianta muore quindi l'agriperlite serve per far scendere l'acqua e secondo per far respirare le radici le radici hanno bisogno di respirare se no la pianta muore ok questo è importante senti c'è Diego che ci fa questa domanda ragazzi scusate non ho mai fatto una talea cosa mi consigliate per fare la prima esperienza allora ti faccio vedere Diego cosa fare te lo faccio vedere in diretta visto che sono andato prima in giardino ho preso non ho ancora le ortense perché le ortense sono indietro ho preso una gardenia ok visto che io una gardenia penso da orto botanico perché è diventata enorme la devo tagliare perché se no mi ha inghiottito il mio lampione quindi non riesco più a far luce in giardino allora questo è quello che devi fare Diego guarda la prima cosa è prendere del materiale buono il materiale si intende il rametto giusto e ti dico come si fa non deve essere troppo verde e il rametto proprio quando è giovane e agli inizi lo vedi subito perché è di consistenza proprio si muove nel momento nel si muove è troppo flessibile quando lo tocchi è troppo flessibile non deve essere neanche troppo legnoso non deve essere troppo duro deve essere così come quello che ho in mano io in questo momento flessibile ok ma ancora verde non deve essere marrone non deve esserci la parte legnosa questa è la prima cosa importante perché se fai questo bene hai già fatto il 50% del risultato dopodiché si taglia il rametto come vedo in questo momento è anche abbastanza lungo lo dobbiamo ridurre in minimi termini circa 8-10 cm quindi cosa andrò a fare qui tolgo questa foglia tolgo quest'altra comincio a pulirlo dalle foglie sotto ok e lascio solo quelle due che vedi sopra si si ok adesso lo riduco ancora perché qui avevo qui ho tolto delle foglie qui sotto e qui ne ho tolte ancora a metà questo punto teniamo a buono quello della metà andiamo a fare appena sotto dove ho staccato la foglia che è l'ascella diciamo così dove nasce la foglia si va a fare un taglio così non così un po' obliquo così è sbagliato sbagliato così dritto non va bene ok va bene però se vogliamo aiutare sempre la percentuale di riuscita facciamolo in questo modo a fetta di salame tac colpo secco ok abbiamo ottenuto una parte questa superficie più ampia rispetto a un taglio che avremmo fatto con se l'avessimo fatto con la forbice a 90 gradi non è ancora finito vedi come è diventato piccolino Diego a certo punto prendiamo le due foglioline che sono però enormi e andiamo a ridurle della metà almeno così ok quindi tagliamo anche le foglie e adesso ti spiego anche il perché perché questo miracolo della natura che sta per avvenire dobbiamo aiutarlo dobbiamo dargli passione amore ma anche le condizioni giuste non basta incrociare le dita come fanno tanti bisogna fare le cose giuste allora dobbiamo calcolare che dal momento in cui io adesso andrò a metterlo nel terriccio parte una una lotta contro il tempo per per non morire perché questo rametto è destinato a morire se non facciamo le cose ecco tra l'altro bisogna sbrigarci giusto non si può tagliare non solamente aspettare a metterlo in acqua brava bravissima perciò per prima cosa il materiale deve essere fresco lo si prende e lo si fa è come se tu peschi un pesce lo prendi lo pulisci e te lo mangi se lo lasci in frigo 3-4 giorni si dice puzza giusto ecco la stessa cosa qui qui lo devi fare subito va bene basta farlo il giorno che vuoi fare le talee raccogli il materiale la fogliolina tagliata serve perché è come un corpo è come quando noi abbiamo stiamo male adesso non voglio andare a parlare di malattie visto il periodo però cosa dobbiamo fare dobbiamo cercare di evitare il consumo energetico per altre cose ok se ho la febbre non mi metterò a potare le piante me ne devo stare tranquillo con la mia copertina e cercare di limitare al minimo gli sforzi è come una persona malata questa qua allora noi riduciamo l'attività della pianta perché sennò avrebbe due foglie da mantenere le abbiamo ridotte perché non le ho tagliate tutte qualcuno dice beh allora toglile perché da qui la pianta si nutrirà i primi giorni perché non ha le radici quindi io andrò a nebulizzare e l'acqua la prenderà da qui non da qui ok questo è importante e questo penso di aver spiegato come si produce il materino li facciamo tutti così vedi l'altezza guarda la mia mano perfetto questo è la misura l'altezza della nostra talea non più e tutte le foglie io ho visto proprio i vivaisti fare vivaisti che producono tanto per dato un'idea 5.000 piante al giorno di talee ci sono quelli che fanno le talee ne fanno 5.000 al giorno e hanno proprio una tecnica nel ridurre in minimi termini queste ok più lo facciamo bene questo lavoro più abbiamo possibilità di farlo a tequila poi dobbiamo avere il substrato giusto ok però se c'hai delle domande rispondo alle domande guarda ci sono delle domande diverse insomma ne ho viste alcune adesso le controllo meglio che ci chiedono esempi di piante specifiche come faccio la talea D adesso ti faccio qualche esempio però in generale ti chiedo quali sono le piante adatte effettivamente alle talee e per quali non possiamo utilizzare questa tecnica se ci sono delle classificazioni allora diciamo che bene o male la talea adesso non voglio dire tutto perché ci sarebbe subito quello che dice non è vero che è tutto assolutamente cioè diciamo che per caratteri generali per come si dice per oddio adesso mi scappa la parola però per come macro consiglio ti posso dire tutte le piante possiamo fare delle talee però ci sono delle piante in primis che si prestano piante che sono un po' più ostiche ok ti dicevo prima l'ortensia mi raccontava il vivaista che coltiva le ortense che quando loro potano le buttano buttano le cose nel compostaggio perché quando viene potata la pianta il vivaista cresce se non viene venduta cresce loro vanno a potare poi passano col carro lo buttano nella loro grande montagna di rifiuti e vengono fuori le piante senza far nulla basta buttarle là facile l'ortensia il salice il salice se fate caso quando andate a tagliare un salice e tagliate anche i rami avanti a mettere i rami perché dentro è vivo quindi anche il salice ha una grande forza di riproduzione e oltre a quelle poi vabbè le gardenie le gardenie sono abbastanza semplici quando dico abbastanza vuol dire che se facciamo dieci talee ecco questa è la mia gardenia Francesca grandissima tieni presente è una gardenia che alta più o meno due metri e quando io metto le foto su facebook con centinaia di fiori qui c'hai i boccioli pronti però puoi immaginarti fa centinaia di fiori non credono che è in terra e invece è in terra non è in vaso è una grande una grande gardenia ecco io dalle gardenie ottengo quando dico facile un 8 su 10 un 8 su 10 è facile la rosa è sicuramente più difficile la cameglia che ti ho detto prima è più difficile la zalea è estremamente più difficile ok quindi la risposta è che si può fare sì tutto ecco l'oleandro è molto semplice lo possiamo fare soprattutto con l'acqua l'oleandro si propaga in maniera abbastanza semplice adesso ti ho detto quelle che mi vengono senti qui ci chiedono i glicine se si può utilizzare ma i glicine allora sì ma viene fatto soprattutto con la propagine anche con la propagine come viene fatto anche il falso gelsomino tutte le piante rampicanti è più facile farle con la propagine la propagine per chi non lo sa visto che stiamo parlando di una cosa che magari dopo qualcuno dice ma che cos'è certo bravo è prendere un ramo e un ramo logicamente in questo caso abbiamo dei rami lunghi tipo appunto il falso gelsomino la bougainville la che ne so la dipladegna ecco adesso la dipladegna va tantissimo basta mettere un vaso dove noi andiamo a interrare come se fosse praticamente il collo di un di un grande biscione per intenderci andiamo ad interrarlo nella terra e poi riesce dall'altra parte così rimane per un tot periodo dopodiché andiamo quando vediamo che è radicato andiamo a tagliarlo e abbiamo già pronta la nostra pianta questa è la propagine ok ok guarda nel frattempo Filippo ci sta mostrando delle immagini e qui passiamo a un altro tema no gli ormoni radicanti sia quelli che si possono acquistare sia quelli fai da te allora se togli se togli l'immagine adesso ti faccio vedere qui dal vivo allora guarda eccolo qui ecco qua ok questo si acquista è una confezione di ormoni che possiamo acquistare sì sì allora io adesso ti faccio vedere vediamo eccola qua prendiamo la talea chiamiamo sempre Diego allora Diego questa l'avevamo preparata qui possiamo fare come fa il nostro amico Gigi Gialessio che gli dice buona vita oppure possiamo anche dargli una mano se vogliamo dargli una mano facciamo questo gesto lo prendiamo si inumidisce qui adesso dovrei ecco qua c'è un po' d'acqua adesso l'ho bagnata un po' nell'acqua ok entro nel vasetto sbatto un pochino se no è troppo e come vedi esce con su la polvere dobbiamo mettere l'ormone nella parte tagliata insomma sì e qui se abbiamo fatto il taglio di sbieco come vedi la parte che ha preso è maggiore è un po' più grande dopodiché andiamo a metterla nel terreno questo è un bel aiutino però come sempre perché mi piace anche aiutare coloro che dicono eh ma tutti sti soldi da spendere io non ce li ho e allora aiutiamo anche chi non vuole spendere soldi io ho un canale ripeto che si chiama ZZ fai da te quindi non posso tradire quelle che sono le mie eh certo hai trovato il modo di fare anche gli ormoni radicanti fai da te sì e te lo ho qua da fartelo vedere adesso qui è secco perché l'ho utilizzato per fare il video però di tutte le cose che sto parlando trovate una playlist penso con più di 50 video che si chiama propagazione e c'è troverete anche un video dove faccio vedere questo qui questo è un ormai è secco questo è un ramento di salice ok quindi per tutti coloro che non vogliono acquistare questo che costa circa 10 euro mettiamo che dura una vita però uno dice ma perché devo buttare via 10 euro giustamente c'è la natura facciamolo in natura no tu sei maestra in questo no tu insegni a fare le cose come comunque è affascinante all'ilà del fattore economico è bello sapere come funziona la natura perché poi magari un giorno potrebbe non esserci un negozio a disposizione dove andare a fare acquisti quindi ce la possiamo cavare anche da soli no ma poi io dico sempre io vengo tante volte attaccato non so se anche tu vieni attaccata su youtube a me piace adesso lasciamo perdere il messaggio quello diretto lapidario che ti dice muori ok quello lì vabbè a me mi fa sorridere però mi piacciono invece i commenti quelli che vanno nella direzione del tipo eh ma tutta sta fatica che lo potevi comprare alla lidl con due euro allora e io giro dei video certe volte che dico allora forse non ci siamo capiti non possiamo mettere tutto sul piano dell'euro ci sono delle cose che vanno oltre perché sennò riduciamo tutto a merce di scambio appunto con questa moneta non è così quando io dico di salvare un geranio e ci dedico un video per farlo non mi puoi rispondere ma geranio lo compri la lidl a un euro non è quello il senso possiamo farlo con le nostre mani e salviamo una vita perché il geranio è una vita e non va nel cassonetto quindi torniamo qui questo rametto è un rametto di salice che lo potete recuperare in qualsiasi campagna ok i salici ne abbiamo in abbondanza almeno in campagna ci sono portate a casa qualche qualche pezzo di ramo poi li tagliate come vedete qui siamo a 20 centimetri e potete vedere che io ho praticato dei fori a una distanza abbastanza simmetrica tra di loro ok sono fori fatti con una punta che ha la larghezza guarda caso della nostra talea ah ok ok quindi io faccio prendiamo la talea di prima quella di Diego dov'è aspetta eccola qua eccola qua la prendiamo e come vedi si infila ok la facciamo scendere un poco vedi che adesso è scesa ok ok il rametto lo interriamo immaginati la cassetta classica dove mettiamo i gerani questo lo mettiamo appena sotto la superficie insomma con su 2-3 centimetri di terra non di più la proprietà del salice fa la stessa cosa dell'ormone radicante aiuta a far sì che la nostra talea emetta le radici ok se non vogliamo farlo così perché uno dice ah ma io non ho la punta del trapano se devo comprare la punta del trapano devo spendere i soldi c'è la soluzione c'è la soluzione si prendono i rametti più più giovani cioè più più piccoli di questi qua si fanno a pezzettini da 3-4 centimetri si lasciano una settimana in una vaschetta quella che abbiamo visto prima quella che abbiamo visto prima nelle immagini a macerare si lasciano a macerare e quindi otterremo un macerato di salice prenderemo caro Diego devi prendere adesso non esce più prendi la tua bella talea e la metti in un bicchierino pieno di questa di questo macerato d'acqua e salice diciamo lo lasci una notte e il giorno dopo vai avanti e procedi a piantare lei beve queste proprietà che sono proprie del salice ed è aiutata questi sono gli aiutini naturali che noi possiamo dare te ne dico l'ultimo se lo vuoi se no ce n'è un altro di c'ho tempo allora intanto mi approfitto per dire che ci stanno seguendo tantissime persone un conteggio siamo sulle 230 tra youtube e facebook quindi tantissime persone mettete un bel like e adesso poi andiamo a leggerci le domande che ne stanno arrivando parecchie dimmi no no vai stavi facendoci vedere ancora un aiutino l'ultima cosa che si può fare si fa una cosa di questo tipo adesso vediamo se riesco a fare adesso qui il rametto è troppo piccolo però immaginate un rametto più grosso questa è una camellia veramente piccolissima mettiamo un'ortensia il rametto è giustamente un po' più grosso di questo si taglia in due qua proprio si fa un'apertura con la nostra cesoia e si inserisce un chicco di mais questo lo possiamo fare soprattutto anche con le gardegne il mais aiuta anche lì ad emettere le radici alla nostra talea ok questi sono quello che io ad oggi so poi va bene senti allora ti faccio ripartiamo proprio da questo visto che il salice ha lo stesso la stessa sostanza dell'aspirina qualcuno chiede se si può usare l'aspirina se non si trova l'ormone radicante hai mai provato? si si può fare anche così non ti so dire nelle dosi nelle quantità perché non l'ho mai utilizzato quindi non voglio dire una cosa che non ho mai fatto però so che si può fare tranquillamente però ecco sì assolutamente sì allora allora luna scendente o discendente influisce nel buon risultato di una talea? guarda devo essere sincero ho sempre sentito mio nonno parlare di lune quando andava a seminare eccetera mi ha molto affascinata la cosa ma non ho mai approfondito e ti direi una bugia se ti dicessi sì o no quindi preferisco non rispondere ok senti il periodo non abbiamo parlato del periodo migliore per fare le talee qui ci chiedono per esempio qual è il periodo migliore per la gardenia ma puoi dacci in generale indicazioni sì allora la gardenia ti dico quando è sfiorita poi dipende dalla zona dove siamo però diciamo che il settembre è un buon mese allora anche qui c'è una regola abbastanza generale poi ci sono le varianti ok però per farla breve la talea ha bisogno di caldo quindi tutti i mesi caldi bene o male non si sbaglia ok poi la gardenia nello specifico il settembre è un buon mese ti dirò c'è anche un sistema per quando si arriva un po' lunghi in frenata cosa vuol dire io ho girato proprio un video che è tra l'altro uno dei più visti del mio canale dove parlo proprio del sistema del sacchetto che l'anno scorso ho utilizzato pensa ho trovato un'ortensia in montagna dopo lo vediamo questo questo è quello della bottiglia se lo teniamo per dopo che ti spiego anche quello quello del sacchetto l'anno scorso pensa andai a fare un giro in montagna ai primi di novembre in un alpeggio trovai un'ortensia meravigliosa un colore incredibile e giustamente da bravo appassionato ho tirato fuori il mio coltellino come lo facciamo tutti che tutti sappiamo che non bisogna farlo nel giardino degli altri ma andiamo a rubare qui poi era all'aperto era in un bel bosco ho preso questo era vicino all'alpeggio ho preso del materiale l'ho portato a casa appena arrivato a casa ho provato subito a fare la talea se non che dopo mi accorgo che è novembre allora dico cavolo faccio qui cosa sto facendo e allora ho preso tutto quello che ho imparato dai vivaisti sono andato a rivedermelo a ristudiamolo un po' ho detto quasi quasi facciamo il discorso dell'agriperlite ma soprattutto lo facciamo con il sacchetto quindi ho messo insieme l'agriperlite il sacchetto e l'ho messo in caldaia perciò gli ho dato una temperatura visto che arrivava ormai il novembre il dicembre freddo insomma la sintesi è che è stata fino al mese di febbraio a febbraio devo essere sincero col sistema del sacchetto me la sono persa anche via perché adesso vedremo il sistema del sacchetto un po' come quello della bottiglia si basta da solo e la magia è che quando sono andato a febbraio ad aprirlo aveva già messo le sue belle quindi ha funzionato erano due una è morta l'altra ha preso e quindi il mettere il sacchetto con il suo bel elastico e porlo in un locale dove vi sia un poco di luce tanto in inverno è difficile trovare locali oppure se abbiamo un locale a 22-23 gradi che vi sia la luce è meglio ancora io avevo la caldaia perché in casa mia ho 18 gradi e non bastano per una calea e quindi l'ho messo in caldaia si può fare anche così però in generale giugno luglio agosto settembre quelli sono i mesi dove bene o male si può fare del buon taleaggio ok queste ti dirò una cosa importante parlando sempre di periodo visto che il periodo è importante ma è importante soprattutto il luogo mi preme di più parlare del luogo è molto più importante cioè se uno sbaglia dalle tre settimane in più e in meno per una talea vale molto di meno rispetto a dove la metti ok adesso parliamo anche di questo perché secondo me è un altro capitolo da approfondire bene ti leggo una domanda di Luca allora senti a dire che si possono usare anche le lenticchie per stimolare la produzione di radici e poi Luca fa anche un salito a Kermit ecco qua Kermit stasera è di spalle sta ha cambiato posizione allora delle lenticchie non ho non ho notizia non l'ho mai sentito neanche dai vivaisti però penso che sia bene o male la stessa cosa che fa il chicco di mais se ha queste se ha delle proprietà appunto che aiutano alla fuoriuscita della radicazione può essere però non ti so dire non ti so dire ok allora quindi parliamo del metodo della bottiglia visto che l'abbiamo citata e poi parliamo delle posizioni allora lì quel video che stava facendo vedere Filippo è un bel video a me piace ogni tanto andare un po' indietro nel tempo e vedere che cosa ho combinato e lì avevo fatto una prova proprio con queste che vedi adesso si stanno vedendo sono tutte ortense diciamolo subito ho giocato facile sì poi facile anche perché io in giardino ne ho più di 20 piante quindi dove mi giro mi giro trovo ortense allora lì presi lo materiale identico dalla stessa pianta nello stesso giorno e nello stesso giorno ho fatto sia le bottiglie che i vasetti quindi qui poi da bravo toro io sono uno che mi piace approfondire le cose non ho preso tre vasetti ne ho presi dieci quindi ho fatto dieci e dieci quindi posso dire che ho fatto statistica perché quando ne fai dieci sai vale e quello che è venuto fuori adesso non mi ricordo esattamente il numero però lì le stavo aprendo una per una andate a vederlo ecco guarda questa per dire che bella ok questa è una talea che ha già messo un sacco di foglie all'interno guarda che belle foglie vigorose e all'interno di una bottiglia che io me la sono letteralmente dimenticata per tutto il periodo ecco quindi il vantaggio di questo metodo che adesso ci spieghi bene è che non dobbiamo poi ricordarci di annaffiare continuamente certo 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 infatti come vedi è semplice si prende una bottiglia banalmente la si taglia in due con un taglierino state solo attenti a non tagliarvi e basta e poi dopo ecco qual è la scaletta dove le conservo dopo parleremo proprio del luogo ok e si prende la bottiglia e la si mette una sopra l'altra la si prende praticamente e la si riavvita ok la si infila su le vedi tutte lì eccole lì le vedi che sono lì tutte con sul tappo non state a preoccuparvi se respirano respirate di fargli buchi niente tanto non è sigillata l'aria entra entra dal taglio a metà perfetto allora cosa succede quando noi facciamo questa operazione ricordiamoci di bagnare molto la terra sotto la bottiglia bisogna fare dei buchini per far uscire l'acqua ricordiamoci sempre che il nemico numero uno si chiama ristagno idrico quindi sotto nel fondo della bottiglia c'è tanto così di ghiaietto se non volete spendere se volete spendere due soldi vi consiglio di prendere dell'argilla espansa o dell'appillo vulcanico lo mettete sul fondo ok e quello ci fa da salvagente qualora noi andiamo a bagnare troppo perché rimane sul fondo dove c'è appunto questo materiale diciamo così duro cioè ghiaietto quello che è che permette di drenare ok sotto ci devono essere dei buchi così l'acqua esce dopodiché basta noi andiamo a bagnare bene la prima volta ma bagniamo abbondantemente gli mettiamo sopra l'altra metà della bottiglia con il tappo avvitato e ce la dimentichiamo cosa noterete dal giorno dopo se comincia a far caldo ok noterete che le pareti della bottiglia cominciano a formarsi tutte le goccioline e sono le goccioline che poi cadranno all'interno del vaso e si crea questa sorta di moto perpetuo quindi noi non dobbiamo e la stessa cosa succede col sacchetto noi possiamo prendere il sacchetto un sacchetto di quelli per congelare gli alimenti questo prendiamo un vasetto come questo qua gli mettiamo su in questo caso bisogna mettere un qualcosa che tiene come fosse questo in alto il sacchetto mettiamo due tre bacchetti ok poi infiliamo facciamo come una tenda degli indiani gli mettiamo su un sacchetto e qui gli mettiamo un elastico che tiene basta anche qui noteremo che il sacchetto giustamente evapora l'acqua e l'acqua quindi abbiamo un ciclo chiuso dell'acqua insomma e lì il vantaggio è per chi ha poco tempo si ripromette di fare le cose e poi non le fa io devo essere sincero a me piace tanto anche bagnare ho preso da mia mamma che quando può prende la canna dell'acqua si mette lì a bagnare i suoi fiori lei gode a fare questo genere e piace tanto anche a me ok mi dà soddisfazione qualcun altro dice io mi rompo a farlo o dirlo magari chi deve muoversi non ha tempo ogni giorno di occuparsi delle piante questo metodo è veramente una soluzione ottima allora dobbiamo ancora parlare del luogo ma ci sono una serie di domande che riguardano le rose ci sono anche dei commenti divertenti te li leggo allora c'è Sandra che ci dice aiutatemi a fare le talee di rose che per me sono difficili poi Barbara dice girano sui social il video dell'uso della patata con la talea della rosa funziona e Carmela risponde io ho provato a fare le talee di rose all'inizio dell'inverno e ho fatto l'esperimento con le patate sapete cosa è nato? tutte patate una patata allora spieghiamolo perché è un video che ti dico non è virale ma comunque è un video penso che deve aver superato il milione comunque quando un video supera un milione ha una certa valenza io ne ho fatto ne ho fatto uno che sui due milioni è qualcosa e che è l'uovo che è molto bello ti consiglio l'hai già visto quello dell'uovo? è simpatico a te che piace il riciclaggio eccetera e lì sotterra l'uovo e guarda cosa accade allora e anche lì ho fatto guarda cosa accade e ho fatto il seguito dopo 40 giorni ho fatto vedere cosa è successo all'apparato radicale di quella fragola ok? perché è giusto far vedere cosa succede sotto sopra magari noi non vediamo ma sotto è successo allora con la patata esiste il primo video e poi esiste anche con risultato a 40 giorni perché io non vado a rispondere a tutti quelli che mi dicono ah non funziona eccetera primo non ho il tempo e secondo mi hanno insegnato nei corsi che ho fatto a Milano da Google dove ti insegnano un pochino come fare lo youtuber ti dicono che hai commenti quali soprattutto provocatori o gli insulti soprattutto di non rispondere mai ok? fare come Gesù accetta tutto e io sono Gesù quindi io accetto tutto però giustamente mi difendo come? cercando di far vedere i risultati quindi è vero possono nascere delle patate però quel sistema lì funziona funziona per lo stesso principio che abbiamo detto più o meno prima del salice poi non sono un chimico non sono un biologo non ti so dire che cosa fa la patata al piccolo rametto alla rosa sfiorita che si inserisce però vai a vederti il video a me ha funzionato qualcuno dice anche eh ma non funziona però andiamo a vedere il luogo dove l'hai messo e qui veniamo al discorso del luogo sì perché la moria più alta delle talee non si ha perché sia sbagliato il substrato non si ha perché si è preso del materiale non buono non si ha perché si è bagnato troppo o poco ma si ha perché si è sbagliato il luogo quindi se Francesca mi chiedesse tu devi scegliere una cosa su tutte qual è la più importante il luogo ti direi il luogo poi ti direi il materiale buono ti direi il substrato eccetera ma il luogo è fondamentale dai allora cosa cosa dobbiamo quale luogo dobbiamo scegliere in una zona d'ombra per tutte le piante anche quelle che amano il sole sempre l'ombra sì perché la talea non è una pianta è questa la grande differenza che mi hanno spiegato i vivaisti i vivaisti si arrabbiano ma quella non è una pianta mi dice è come se tu prendi un neonato di sette giorni fagli mangiare una carbonara e dice non lo mangerà mai non è preparato poi la mangerà poi la mangerà ma all'inizio lo uccidi devi dargli la sua pappetta giusta quindi non fai questi discorsi mi diceva tu devi concepire la talea come un neonato e quando l'hai fatta è il primo giorno è uscito dalla sala operatoria sai come è conciato un bambino quando esce dopo nove mesi dalla mamma che ha tutte queste pieguzze qui mi facevano questi esempi siamo anche brutti quando nasciamo non è che siamo tanti belli tranne le mamme che per l'effetto dell'ostuticina cioè ci vedono bellissimi ma siamo veramente delle mini lucertole ecco le talee sono veramente appese a un filo noi dobbiamo metterle subito in terapia intensiva parola che va tanto di moda ok le dobbiamo mettere lì e dobbiamo fargli trovare la condizione migliore perché hanno fatto hanno subito un trauma incredibile sono state tagliate dalla mamma abbastanza sono stato giù abbastanza pesante sei chiarissimo stai facendo un esempio che ci rimarrà impresso per sempre perfetto quello volevo quello volevo scegliete una zona che non sia battuta dai venti altra cosa che mi hanno insegnato i vivaisti non è il freddo uccidere le piante è l'aria fredda sono i venti freddi quindi tante volte le piante ci muoiono per le cose adesso qui sono giornate adesso sembra che siamo in Sardegna qui al nord sono anni che continua a far vento adesso tre giorni di vento sono i venti che uccidono le piante le ha i venti freddi infatti un bel problema del bosco quindi mettiamola ecco e allora devi mettere anche tu dei mari delle protezioni qualcosa perché ti vedo guarda come sei di aperta questo questo può essere per le piante non è che lo amano poi ci sono piante che lo sopportano di più piante che lo sopportano di meno per le talee tutte non lo sopportano perché stiamo parlando di neonati se vai dietro a vedere il video che ti ho fatto vedere prima che ha fatto vedere prima Filippo a un certo punto scopri che c'è questa scaletta è un luogo che io ho individuato nella mia casa la chiamo la mia scaletta magica perché è un angolo angolo retto protetto ci sono addirittura dietro tutte delle piante fra cui anche la gardenia che va ulteriormente a schermare quindi scherma dal sole e scherma dall'aria ricordate ombra luminosa perché c'è ombra e ombra non puoi mettermelo in una zona d'ombra totale l'ombra luminosa quindi ci deve essere la luce che arriva che certa gente confonde il sottoscritto confondeva il sole con la luce un conto del sole un conto della luce noi possiamo avere degli angoli meravigliosi di ombra luminosa segnatevi queste parole ombra luminosa c'è sempre un posto dove c'è ombra luminosa ok e lì deve stare finché non vediamo che ha emesso le prime belle foglie come quelle che abbiamo visto prima nelle bottiglie avete visto quante ce n'erano lì sono pronte per uscire dalla nursery e le portiamo in reparto ok senti una domanda di Giuliano alla base della talea metterci un pezzettino di aloe ne ho fatto molte da piante di avogado utilizzando tale sistema ho sentito anche questo come quello dell'aspirina io non lo utilizzo però so so per certo che è un buon sistema quindi se sai farlo buon per te ok Filippo abbiamo delle domande anche da facebook che io non le sto vedendo ok grazie scusa per esempio Albina dice ho messo in acqua dei rametti di gelsomino giallo in fiore circa un mese fa non vedo radici ma sono nate nuove foglie allora innanzitutto il momento forse è un po' prematuro è dagli tempo dagli tempo perché fa ancora molto freddo è il discorso del tempo che dicevamo prima cioè se io il discorso che ho fatto prima della talea dell'ortensia quando io l'ho presa a novembre ho dovuto addirittura inventarmi la caldaia eccetera eccetera l'avessi presa a luglio la cosa più semplice la prendevo la mettevo nella mia scaletta magica e veniva bisogna dagli tempo non è ancora il momento secondo me è un po' prematuro invece qui ci chiedono come si fanno le talee delle piante grasse meglio dai remetti o dalle foglie si devono mettere in acqua per fare mettere le radici guarda mi dispiace di non averle qui adesso da farti vedere ma ieri sono andato a trovare mia madre e mi ha riempito il baule perché sto facendo non so se l'hai visto ho pubblicato ieri l'ultimo video che ho fatto no non l'ho visto Vieni mi dispiace ho girato sono due minuti proprio due minuti sono entrato nel mio bagno ho detto vi faccio vedere il mio bagno cosa ho messo e ho preso questa cassettina di riciclo sempre con il mio fai da te gli ho dato una levigata a questa cassettina di legno e all'interno ho posizionato dei vasetti con delle quello che ho tirato su del giardino e c'è dentro una piccola agave ci sono queste roselline grasse e anche il potos perché il potos ne ho in quantità e le ho divise tutte con i vari vasetti perché subito qualcuno giustamente mi scrive ma non puoi bagnare tutte queste piante allo stesso modo dentro i vasetti sono divisi quindi Pozzi Alessandro le bagna in modo diverso e dicevo le piante grasse quando ha visto mia madre questo video mi dice me ne fai una anche a me e giustamente ha detto dai tirami su qualche rametto cosa ha fatto è andata in giro per il giardino ha preso dei rametti proprio li tagli li tiri via dalle piante lei addirittura le fa con le nudi mani se no con un accesoio le tagli e poi non si fa altro che metterle in un substrato giusto fagli trovare un buon substrato l'humus della situazione va benissimo il ricavato del nostro compostaggio magari lo alleggerisci visto che sono piante grasse con almeno un 50% di sabbia ok e basta la pianta grassa è una pianta che attacca un po' ovunque anche con la foglia tante volte qualcuno di voi non so se tu quanti dei tuoi utenti conoscono le OIA la OIA tu la conosci Francesca? no 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 non la conosco non l'ho sentito non conosci la OIA allora guarda la OIA è una una nicchia tra l'altro segna te la do un po' allora te la do un po' come news calcola che il primo video di OIA l'ho girato circa tre anni fa sono stato il primo a interessarmene in Italia se tu scrivi OIA nel web usciranno praticamente solo i miei video e la OIA è una pianta possiamo considerarla non è una pianta grassa però è molto simile all'orchidee e si può riprodurre tante volte anche con la foglia c'è la OIA Kerry che è una foglia è una OIA conosciuta perché viene regalata a San Valentino perché ha la forma del cuore fatta così non so se le hai già viste viene venduta proprio la foglia dentro nel vasetto nel giorno di San Valentino ecco quella viene proprio infilzata e da lì parte la pianta si può fare come questa qui che ti ho fatto vedere anche questa qui che è la Zamiokulcas che è la pianta di Padre Pio adesso si è alzata però è partito tutto da una foglia senti ti faccio un'ultima domanda perché ci riporta un po' più al mondo diciamo delle piante produttive non soltanto delle piante da giardino quindi se utilizziamo la talea per delle piante anche da frutto diciamo così Tommaso ci chiede tra un germoglio nato da seme e una talea che è una talea chi arriva prima a fiorire e a fruttificare? e allora è un'impresa ardua per entrambe ma ti dico già subito che quando noi facciamo sia che faccio un esempio adesso ho girato un video dove col seme del limone o del mappo ecco c'ho dei mappi di là che sono grandi così e è bello vederli crescere però quel mappo lì ahimè difficilmente porterà arriverà a fruttificazione va innestato le piante da frutto che noi vediamo tu lo saprai meglio di me sono tutte su un porta innesto si dice il porta innesto è la prima parte quando noi vediamo un pesco alto che compriamo è alto due metri per dire quando andiamo a prendere la classica pianta che ha più o meno due anni dall'agraria di turno guardate in basso vedrete che circa 10-15 cm d'altezza la pianta è deviata lì è stato tagliato il porta innesto il porta innesto sotto quasi sempre sono dei prugni perché il prugno è più vigoroso quindi su una pianta vigorosa poi viene innestato la pianta che invece noi abbiamo deciso di fare che può essere un nesto quindi diciamo ci perdiamo l'occasione l'opportunità del porta innesto con la talea e quindi insomma si fa l'innesto in genere ok va bene grazie Alessandro sei stato fantastico ci ha aiutato a scoprire questo mondo Filippo fa le battute Oia sarebbe ah no ah la domanda ha scritto Oia sarebbe Oggigia senza G quindi la dobbiamo adottare attenzione Oia c'è anche la Y faremo faremo una puntata su questo insomma andiamo a conoscenza di questa pianta Alessandro del portale del verde grazie davvero chi ha voglia di approfondire può venire nel tuo canale perché veramente ci sono migliaia e migliaia e migliaia di video quindi tutte le siamo a 1600 quindi qualcosa troverà 1600 no 1600 ok va bene allora un bel like per il portale del verde e anche per il bosco di Oggigia grazie grazie di questa consociazione l'abbiamo chiamati così questi incontri tra canali diversi ciao bene siamo sempre per la condivisione noi ciao ciao buona serata a tutti grazie